Annullo la sfida, annullo la sfida perché non sarebbe bello vincere con Mattia in queste condizioni Io credo che il tuo maestro ti avrebbe dovuto tutelare perché si vede lontano miglio che tu non stai bene e che non ce la faresti mai E sarebbe veramente vincere in una maniera proprio infingata Però il video delle prove lei l'aveva visto Certo che lo viste Io infatti ci ho dato 5 ma adesso lo deduci dalle prove non ti bastavano Ma cosa c'entra? Ma tu hai detto che poteva ballare adesso hai detto che poteva ballare gli hai dato pure 7 ieri Io ho detto che può ballare al suo 10% che secondo te basta? Tu non lo stai tutelando punto io lo sto tutelando Ma cosa devi tutelare? Ma falla finire Io lo sto tutelando Maria andiamo avanti con la sfida No no decido io se permetti Eh no è lei Raimondo che... Non è che decidi tu la sfida l'ho chiesta io e la decido io Io tutelio Mattia dal punto di vista fisico Gerson ti ringrazio Fammi finire Se il dottore dice Se il dottore dice Che Mattia può ballare Io non ho nulla da tutelare perché so che non riesca di farsi male Ho capito Raimondo però siccome la sfida è lei Io non ho bisogno di tutelarlo perché il suo 10% per quanto mi riguarda bastava Quindi è l'ultimo che continua a dire Ma dovevi tutelare 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 che è? Ma dovevi tutelare che... Grazie a tutti